Siamo i dottori, quelli del virus, siamo luminari, andiamo in tv, uomini di scienza, epidemiologi, infettivologi, siamo i virologi, noi siamo il verbo, sapiamo tutto noi, gli asintomatici sono contagiosi ma hanno una carica virale molto bassa e quindi non possono contagiare, ma non ne siamo sicuri, d'estate muore il coronavirus, cioè non è che proprio muore il ceppo che muta e che perde la sua carica virale ma è comunque letale, non ce l'ho capito, no, mettete i guanti, non li mettete più, il disinfettante, ma non serve più, e la distanza di sicurezza è di un metro, un metro e mezzo, ma se andate a ballare diventano due, ehi, fai pure due metri e mezzo, siamo più sicuro. Questo virus non esiste più, ma in autunno arriva al sud, l'idrossiclorochina non funziona più, la cura al plasma non è sicuro, le mascherine ed i tamponi ed il vaccino e la Pimu, la fase 1, 2, 3, e 5, 6, e 7, e intanto noi siamo in tv a fare. Pa, pa, pa!